Il 12 novembre scorso in Torino, Grugliasco e Rivoli, i carabinieri del comando provinciale di Torino hanno arrestato 4 indagati ritenuti responsabili di concorso tra loro e una quinta persona, già arrestata in fragranza nel settembre 2019, del reato di estorsione nei confronti di un albergatore torinese. L'indagine condotta da settembre all'ottobre ha consentito di accertare una dinamica estorsiva ai danni di un imprenditore torinese del ramo alberghiero da parte di un ex socio, il quale pretendeva della vittima la somma di 50.000 euro, vantando nei confronti di quest'ultimo un credito in realtà mai maturato, di svelare il modus operandi utilizzato dai quattro che, milantando appartenenza all'andrangheta, in più occasioni avevano minacciato l'albergatore documentare in fragranza di reato. L'ultimo degli episodi delittuosi è occorso nel settembre 2019 con contestuale arresto dell'autore e recupero di 500 euro, estorti con l'acconto dell'intera somma pretesa. L'intera somma pretesa